Don Mario Salerno, parroco di San Demetro e Rossano Braca, presidente dell'associazione Venite LiBenter, vogliono dare continuità a quell'impegno già profuso al servizio dei poveri e dei bisognosi. Un lavoro che non si è mai interrotto, alimentato dall'esperienza vissuta in Madagascar dal 4 al 24 luglio. Si è già raccolto tanto, tutto quello che vedete fra poco raggiungerà la missione delle ancelle della visitazione, ma ci cercherà di fare ancora di più, di cui l'idea di organizzare una scena di solidarietà per raccogliere fondi. Ma a cosa serviranno? A scrivere la seconda puntata di una storia bellissima che abbiamo già condiviso con Telecolore, quella del centro di accoglienza di bambini in Madagascar. Abbiamo fatto nei mesi precedenti una grande raccolta di generi di prima necessità, abiti, giochi, attrezzature sanitarie e adesso attraverso questa cena cerchiamo di raccogliere fondi per pagare la spedizione lì in Madagascar per il Natale, per mantenere questa promessa che avevamo fatto lì ai bambini di un regalo speciale. Abbastanza chiaro il messaggio però esplichiamolo ancora meglio, si viene lì, si pagherà una quota e poi questi fondi? Allora, una donazione per partecipare alla cena, diciamo da 25 euro alla portata di tutti, siamo insieme, si cena insieme, ci sarà bellissima musica con degli ospiti da Matteo Cantarella, le zampogne d'altro canto, gli insiders, insomma parteciperanno a questa serata e il giorno dopo io con questo messaggio e con questa raccolta fondi andrò in Madagascar per organizzare questa spedizione di un container di aiuti umanitari. E poi cosa si comprerà con quei soldi? Allora, abbiamo già acquistato, abbiamo acquistato tutto quello che serviva, dalle cose più banali, da una caramella, perché vogliamo che arrivi un messaggio da Salerno in Madagascar per Natale, per i bambini, di affetto ma anche cose importanti, farmaci, attrezzature sanitarie, vestiti, scarpe, insomma tutto quello che può servire a una comunità che non ha assolutamente niente.